Se l'avvocato Chiacchio fosse calabrese, mi sarei aspettato che poiché ha finito tutti i nostri processi ne voleva qualcun altro. Scherzo naturalmente, ho appreso adesso, qualche minuto fa, che è uscito questo dispositivo nel quale sia io che Enzo dovremmo essere, o siamo, siamo indagati per un'eventuale frode sportiva. Non abbiamo letto ancora gli atti, non sappiamo che cosa c'è, non sappiamo chi l'ha detto, non sappiamo che cosa hanno in mano i nostri inquirenti, però insomma prendiamo per buono quello che c'è scritto nel dispositivo e leggeremo le carte. Qualcuno ci dovrà sentire, immagino, visto che siamo fra virgolette indagati. Ci dovrà sentire perché le cose più importanti secondo me che devono venire fuori e che sono l'assoluta verità di questa situazione e che qualcuno dovrà chiedere a questi signori con i quali avremmo fatto questa combina, dovrebbero chiedere evidentemente se conoscevano Taccone, se l'hanno mai visto, se l'hanno mai sentito per telefono, se l'hanno incontrato a un ristorante, se l'hanno incontrato in una bettola, se l'hanno visto non so dove, insomma. Prima della partita. La risposta è no per tutti, la risposta è no per me, per quanto mi riguarda né con il presidente né con il loro direttore sportivo ed ho avuto il piacere di conoscerli esattamente forse una mezz'ora, 40 minuti prima che iniziasse la partita. Sono arrivato, sono andato negli spogliatori dei ragazzi a Catanzaro, sono entrato sul campo e mi hanno presentato il presidente del Catanzaro e il direttore sportivo che non avevo mai visto in vita mia, non avevo mai sentito in vita mia, con i quali non ci siamo scambiati nessun tipo di messaggio. Quindi state tranquilli che intercettazioni, taccone, non ce ne sono, non ce ne possono essere. A meno che non hanno colonato la mia voce, l'hanno fatta, ma scherza naturalmente, perché nessuno farebbe questo. Presidente, la prima cosa strana è comunque questa fuga di notizie che c'è stata dalla Calabria, perché lei appunto ha ricevuto la notizia da parte nostra pochissimi minuti fa, però non ha ancora ricevuto nessun atto ufficiale. Ma la giustizia si muove in questo modo, la cosa non mi spaventa, né mi lascia, voglio dire, né perplesso né tranquillo. La situazione è questa, lei sa meglio di me che sui tribunali non sono spesso i giudici che parlano, ma sono gli uscieri, quell'altro, fanno uscire le notizie, hanno rapporti con giornalisti, hanno rapporti con chi poi deve diffondere queste notizie, perché sicuramente non lo può fare il magistrato, perché il magistrato è tenuto al segreto di ufficio. Quindi escono fuori queste notizie, le diffondono, ma in Italia è fatta così. Se pensate che io approvi questi metodi, la risposta è no, ma se pensate che io li debba combattere, assolutamente no, perché so bene che questo è quello che succede in tutti i tribunali. Quindi non è che la cosa mi lascia così contento o preoccupato. Sono assolutamente libero da questa situazione, per cui questa è ancora più tranquilla di quella delle partite in precedenza, oggetto di un'eventuale combina. Ma la cosa che mi lascia più perplesso in tutto questo è che ho letto che ci sarebbe anche un giocatore, il quale avrebbe sbagliato due gol. Ma scusate, a questo punto ogni giocatore che sbaglia un gol è soggetto o potrebbe essere incriminato, perché l'ha fatto volutamente. E che dobbiamo dire allora che il nostro Insigne ci ha fatto un gol bellissimo e ci stava buttando in Serie C? Allora quello non era combinato. Oppure fra tre e quattro anni uscirà fuori che la partita Avellino-Latina che abbiamo giocato una settimana fa era combinata perché dovevamo vincere. Ma ragazzi, guardassero le cose serie, e lo dico senza mezzi termini, guardassero la partita della Ternana. la guardassero attentamente e non guardassero le cose nostre. Perché un giocatore che arriva, tira in porta e sbaglia il gol, non è che può essere incriminato perché ha fatto la combina, ragazzi. Ma veramente siamo nel mondo delle fantasie, insomma. Presidente, essere tranquilli, ok, anche essere perplessi se vogliamo, però dà tremendamente fastidio tornare di nuovo questo refrain dell'Avellino implicato e le preoccupazioni dei tifosi che si preoccupano, eccetera. Ma allora i tifosi però non si devono preoccupare assolutamente perché mentre allora si parlava di intercettazioni, eccetera, qua io non so che non ci sia niente perché non esiste nulla per noi. Quindi questo lo posso dire a chiare lettere, lo posso dire guardando tutti negli occhi con grande tranquillità perché fino adesso ci sono delle indagini, ve le dico prima che escono le indagini. Noi non c'entriamo, niente, punto. Questo è certo. Allora neanche a loro c'entravamo, però c'era un'intercettazione per le quali non sapevi che cosa avevano fatto con dei nostri tesserati. Oggi siamo io e De Vito, scusate, ma era normale che io e De Vito facciamo delle cose contro l'Avellino. Assolutamente no. Sono tranquillo. Anche perché poi da quello che risulta sembrerebbe che la partita fosse indirezzata verso un pareggio che poteva stare bene a tutte e due le squadre, invece poi ricordiamo molto bene il risultato a favore del Avellino che ci consegnò la Serie B. Signore, guardate, io voglio dire questo, insomma, soltanto chi non ha mai fatto calcio, solo chi non conosce il calcio, non sa di queste cose. Queste cose non le fanno i dirigenti. Queste cose, se si devono scambiare un favore, lo fanno i giocatori in campo, ma lo fanno in maniera implicita, non è che si parlano, non è che dicano guarda che io voglio vincere, voglio perdere, ma non è così. Ricordo sempre la famosa partita Milan-Udinese, che il Milan doveva pareggiare e prendere un punto. Si sono messi a giocare intorno a 20 metri, 22 giocatori, pure i portieri stavano in mezzo al campo, che si passavano la palla, io passi a me, tu passi a te. Ma sono cose che decidono eventualmente i giocatori, che c'entrano, le società, e non ci sono combina, della maniera più totale. La combina è quando tu hai un tornaconto personale. Allora che fai? Scommetti come la volta scorsa? Allora c'era una cosa seria, perché si è parlato di scommesse fatte, si è parlato di soldi investiti, soldi guadagnati, e quindi tutto sommato ci siamo dovuti difendere con grande forza. Questa volta è un pur parley, ma veramente un pur parley, che non ha nessun senso. Fra l'altro non so neanche il presidente del Catanzaro perché è stato agli arresti domiciliari, ma non credo che sia per motivi di origine sportiva, non lo so. Assolutamente. Tra l'altro quella partita, ricordo benissimo, era legata al risultato della partita di Perugia, sia la promozione sia la retrocessione. Diceva il presidente che parliamo di cose serie, parliamo di che non c'entrano stavolta i soldi, invece i soldi c'entrano in un'altra questione molto calda di questi giorni. Cioè mi volete dare una cosa di soldi? Non lo so, che avete fatto? Non ho capito. Di che dobbiamo parlare? Parliamo di questa trattativa in questo caso. Ah, parliamo di questa trattativa, va bene, va bene. Allora, credo di aver già detto a dei vostri colleghi prima, e spero di non dire cose diverse da quelle che ho detto, perché inevitabilmente dovrò dire la verità e quindi è difficile che uno possa sbagliarsi su quello che dice. Tacone arrabbiato. Tacone, come mi avete definito? Tacone, come? Scuro in volto. Forse qualcuno ha visto che è andato a mare a fare qualche cosa, non lo so, insomma, è una scherza. La voglio prendere a scherzare perché è giusto che sia così, insomma. Mi sono arrabbiato perché evidentemente era un incontro nel quale c'è stata una persona che mi ha chiamato, che si chiama Di Gennaro, lo conoscete, il nostro ex responsabile marketing, che ora è il direttore commerciale del gruppo D'Agostino, mi ha chiamato per sapere se potevamo incontrarci per fare una chiacchierata. Assolutamente informale. Ovviamente è stato avvisato anche l'altro socio, il dottore Gubitose, e siamo visti praticamente 9, un quarto, 9, 20. Sono arrivato, l'ingegnere è arrivato dopo pochi minuti, il dottore Gubitose è arrivato dopo circa un quarto, un quarto, 20 minuti. Abbiamo aspettato la sua presenza perché è giusto che fosse così, quindi abbiamo chiacchierato del più o del meno. Poi a un certo punto un mio collaboratore, Mario, il mio braccio destro, ha mandato un messaggio dicendo guarda che giù stanno i giornalisti. E mi sono arrabbiato, perché se questa cosa la sapevamo tre persone. Non capisco qual era la necessità evidentemente di far venire i giornalisti. Allora, se la presenza dei giornalisti, secondo qualcuno, può essere foriera di costrizione nei miei confronti, nelle mie decisioni, se lo può scordare. Perché io vado avanti per la mia strada, se l'operazione che riesco a fare è un'operazione soddisfacente, non buona, soddisfacente. Io metto sul piatto della bilancia il bene dell'Avellino, il bene dei tifosi, perché loro vorrebbero sicuramente che entrasse in società una persona importante, quale quella dell'ingegnere D'Agostino con il suo gruppo. Che, insisto, sarebbe per me il numero uno in assoluto, in tutta Italia. Sarebbe meglio anche di Agnelli per me. Perché è una persona che ha meritato in questi anni di avere non solo la mia amicizia, ma la mia gratitudine per tutto quello che lui ha fatto in questi anni come sponsor e come amico. Ricordo, non sono solo i soldi. D'Agostino è una persona con la quale, nonostante noi avessimo un contratto di sponsorizzazione, se ci fosse servito qualcosa momentaneamente lo potevi chiamare. E lui ha sempre risposto, alla grande. Quindi è una persona degna di grandissima considerazione da parte mia. Insisto, è il mio numero uno sicuramente in questa trattativa. Però devo mettere sull'altro piatto della bilancia due cose. Una, imprenditoriale, che non c'entra niente con l'Avellino. L'ho letto su un giornale quando io stavo fuori questa settimana e credo che chi l'ha detto avesse notizie sicure. Le quote dell'Avellino Calcio sono di proprietà della mia holding che è proprietaria della Casa di Cure, che è proprietaria di Immobili e così via. Fra l'altro anche quote dell'Avellino Calcio, che stanno a bilancio. Quindi se io dovesse avere queste quote, dico una sciocchezza, quotate a 3-4 milioni e domani le vende a 100 mila euro, questa mia holding avrebbe una minusvalenza di 3 milioni e 8-3 milioni e 900 mila euro. Il che significa che metto in crisi la mia sopravvivenza. della mia holding, e non credo che uno possa chiedermi questo. Questo che significa? Significa che devo trovare una soluzione equa e media che mi consenta di non avere molte plusvalenze e di accontentare evidentemente non solo i tifosi che vogliono che io giustamente mi faccia da parte come socio di maggioranza e faccia entrare un gruppo importante che dà maggiore solidità, maggiore consistenza. È una persona che per l'altro del calcio c'è stato. Mi ricordo che Angelo mi ha raccontato a questa riunione che è stato presidente di una squadra di prima categoria, non mi ricordo, eccetera, per cui anche dimestichezza con il calcio, oltre ad essere un imprenditore importante nel suo campo. Quindi sicuramente questa è una situazione che mi spingerà a fare di tutto per rimetterci il più possibile a contentare sia i tifosi che il gruppo d'Agostino. A che punto è questa trattativa, Presidente? È rimasta ferma lì perché noi ci siamo parlati di varie soluzioni e naturalmente l'ingegnere ha preso tempo e diceva se ci riflettiamo un po' e poi eventualmente ci sentiamo. Ma non è che io devo sentirmi con qualcuno, sono loro che mi devono chiamare. Per dire abbiamo riflettuto, vogliamo fare questa operazione, la prima, la seconda, la terza, ci sono varie soluzioni. Sono loro che dovranno scegliere cosa fare. E quindi io sono assolutamente disponibile per qualunque delle tre trattative che sono in piedi. Anche quella del 33% per tre? Allora, quella del 33% vi dico che è quella meno perseguibile. Vi dico perché. In maniera molto chiara. Meno perseguibile perché io praticamente passo dall'80 al 33%. Quindi praticamente io perdo la mia autonomia gestionale. che non è quella di mettere il direttore generale, assolutamente. Cioè, il direttore, scusami, non è quella di mettere l'amministratore unico. Mi sta bene che noi scegliamo una persona esterna. Ho visto che si fa il nome di Roberto D'Agostino, ottima persona, ha lavorato con me anche, quindi conosce... Di Gennaro, scusa, D'Agostino. Roberto Di Gennaro, sì, certo. Roberto Di Gennaro, persona eccellente sotto tutti i profili. Quindi è una persona competente, una persona che può darci una grossa mano nella gestione dell'ordinario. È chiaro che in questa situazione del 33% il dottore Di Gennaro dovrà eseguire, evidentemente, quello che decidono i tre soci. Questo mi sembra scontato. E quindi questa potrebbe essere una soluzione. Perdendo però la mia autonomia gestionale, è chiaro che questo ha un valore per me. Un valore importante. Perché ho detto all'ingegnere D'Agostino, lo dico senza mezzi termini, l'ingegnere D'Agostino è uno abituato a comprare, compra sempre. Beato lui, perché sta bene. Io non sono invidioso di lui, sono assolutamente contento di avere un amico importante, molto importante. Ma quando compri una società, ci sono dei parametri che tu devi andare a guardare, guardi i bilanci, guardi la situazione, che ne so, compri una casa, compri un terreno, fai la tua proiezione, un business plan per costruire villette, hai una tua idea precisa e sai quanto vale. Comprare una società di calcio che ha valori intrinseci che non sono scritti nei bilanci, tu nel bilancio guardi la situazione patrimoniale, dare e avere. Non guardi cosa conta il titolo, se ha un valore, il titolo della squadra in Serie B, ha un valore il fatto che sono cinque anni che siamo rimasti in Serie B in interruttamento a distanza del 73, se mi ricordo bene, 77 quando poi siamo andati in Serie A, quindi anche questo ha un peso, il valore della rosa e dei giocatori. Allora ho fatto questo esempio semplice, credo di essere abbastanza chiaro, se tu vai a comprare un appartamento, un conto è che compri l'appartamento come sta e vale 100 euro, un conto è che nell'appartamento ci sta la ricondizionata, la climatizzazione, c'è il marmo a terra, c'è questo, c'è qui, il valore ha un valore intrinseco, è estrinseco. Il valore intrinseco è quello che ho detto prima, ma la stizzica è il corredo che tu hai in questo momento di questa società. Se tu compri una società come l'ho presa io all'inizio, senza un giocatore, devi andare a comprare i giocatori. Qui c'è i giocatori già di tua proprietà, ce ne sono 14, 15. E questo, nel bilancio non si risulta questo, perché non è che nel bilancio tu metti il valore dei tuoi giocatori. Vai su internet e vedi quanto vale la società, i giocatori, varranno 6, 7, 8 milioni, devi metterli nel bilancio. Non puoi non metterli. Allora è difficile fare una valutazione oggettiva, simplicita di una società di calcio. Allora io questo ho cercato di fargli capire. Non per alzare il prezzo, ma per dirgli, vedi che non abbiamo tutte queste cose. E questo è oggetto evidentemente di una sua riflessione, giusta di una sua valutazione. Ecco Presidente, restando a quello che è anche il tema attuale di pochi minuti fa, siccome lei mesi fa, anche settimane fa, si era espresso, soprattutto per quanto riguarda la calcio scommessa, aveva espresso ovviamente un suo senso di, non ravvedimento, ma di delusione ovviamente per l'implicazione del nome West Avellino all'interno di un processo. Questa volta invece, visto che lei è indagato in prima persona, questo che cosa rappresenta da un punto di vista umano e potrebbe inficiare il futuro di Walter Taccone all'interno dell'US Avellino? La risposta è assolutamente no, perché non c'entro niente, mentre prima lì dovevo entrare come responsabilità oggettiva e quindi poteva capitarmi cosa ci è capitato, di avere dei punti di penalizzazione per cose che avrebbero fatto, uso il condizionale, altre persone. Qui siamo indagati io ed Enzo, quindi siamo indagati alla società, perché io e Enzo lo faccio parte della società, anche se non è un socio. E quindi è chiaro che questa cosa mi dà fastidio, ma sono altrettanto sicuro che non avremo il minimo fastidio su questo procedimento, per cui non mi fa cambiare idea assolutamente questa cosa. Visto, anche se ci stiamo dilungando un po', tornando alla questione, però è un'occasione biotta, tornando alla questione... No, perché ci sono scritte, cioè sui social si scrive di tutto e di più, si scrive Taccone, fai un passo indietro, bene dell'Avellino, certo, ma ho detto prima, da un punto di vista imprenditoriale, non voglio correre il rischio di mettere in crisi le mie aziende. E poi dall'altra parte voglio dire, se Taccone, come è, e ve lo dico senza mezzi termini, ha già 4-5 offerte scritte, non a voce, scritte, con numeri significativamente più alti, e meglio ci posso rimettere uno, due, quello che volete, ma non è che posso poi prendere la mia azione e la butto al vento, franca a me, non credo che si possa dire questo a Taccone, Taccone fa un passo indietro, lo dico ai tifosi, anche quelli che scrivono contro di me, Taccone, Valt, ne fai un passo indietro, io sono disponibile a farlo, però non è che posso prendere tutti questi 8 anni di sacrifici, di soldi messi nell'avellino e sferperarli perché a qualcuno non gli piace Taccone, che è antipatico, perché non è ghiacchierone, perché parla sempre, non si può fare, io posso fare il possibile, e credetemi, la differenza fra un'offerta fatta al gruppo d'Agostino e l'offerta esterna, si parla a meno di 2-3 milioni in più, e io voglio rinunziare a questi soldi, credetemi, e poi ve li faccio vedere scritte, io non dico ghiacchiere, al momento opportuno le metto sul banco, io vorrei che la gente la finisse di rompermi le scatole, una continuazione, chi scrive, di qua, quindi si divertono, c'è gente che ho visto, mi hanno detto, che scrive una continuazione, ma questa gente non lavora, dico io, e me può stare con il telefonino in mano, io non lo so, allora prego, comunque c'è un'opzione che prevede, che questa trattata, c'è un'opzione, cinque, no, cinque, questa è la prima, perché è quella da me preferita, ma è l'ultima in ordine di tempo, quindi nel caso invece, la prima opzione dovesse esaltare, cosa succede? Succede che mi rivolgerò agli altri, faccio entrare persone esterne, da Avellino, l'ho detto che non è una cosa che mi piace, per due motivi, parliamoci chiaro, diciamo il pro e il contro, se entra D'Agostino, il quale non ha esperienza, praticamente, di campionato di serie B, pur se ho detto, ha fatto il presidente, di una squadra direttantistica, negli anni passati, ha buoni rapporti con Enzo, ha buoni rapporti con me, ha buoni rapporti con mio figlio, ha buoni rapporti con Gubitosa, quindi cambierebbe poco, lo staff, voglio dire tecnico, presumibilmente resta lo stesso, aggiungo, il nome dell'allenatore è gradito a lui, per cui non cambierebbe nulla, da un punto di vista di gestione tecnica della squadra, solo per questo, cambierebbe, non c'è dubbio, cambierebbe solo, esclusivamente, la conduzione economica, finanziaria, mi sembra scontato, se entra un socio di maggioranza, è lui che decide le cose, non c'è dubbio, quindi questo è uno, e quindi è la mia preferita sicuramente, ma ci sono altre persone, quali fanno calcio, tutte queste persone fanno calcio, vengono e vogliono gestire loro, allora può darsi che l'allenatore non gli piaccia, allora cominciamo a romperci con la piazza, perché tutti vogliono novellino, e questo per esempio lo vuole cambiare, faccio degli esempi, e non è che l'ho detto, li vorrebbe cambiare, il direttore generale non gli sta bene, Taccone lo cambia e mette Pincopallini, il direttore sportivo De Vito non gli sta bene, cioè è uno sconvolgimento, è una partenza da zero, che mi vedrebbe molto preoccupato, nel restare in questa società, perché poi dovrei tenere una quota, il 10, il 20, il 25% di una società, che praticamente non è che mi sfugge di mano a me, sfugge di mano alla città, e questo non vorrei fare, e credetemi, spero di avere qualcuno che mi creda, ma perché poi molta gente mi vuole bene, insomma, sanno i sacrifici che ho fatto per questi otto anni, credetemi, c'è una differenza abissale tra le offerte, abissale, eppure io, lo faccio questo passo indietro, senza problemi, per far capire che io non sono legato alla poltrona, non sono legato a fare il Presidente, non sono legato ad essere chi decide le cose, nella maniera più totale. I tempi a questo punto è l'ultima che... Penso che in questa settimana definiamo tutto, perché mercoledì verrà Novellino, e quindi io con Novellino, poiché sono ancora io il padre padrone, chiamamolo così, anche se non mi piace questo termine, mi sentirò ovviamente con Michele su questa cosa, su questo non c'è dubbio, anzi lo inviterò a venire, in modo che lo facciamo insieme, questo passaggio è giusto che sia così, Novellino, nel momento in cui dovessimo sederci a tavolino, mercoledì, e decidere le cose, so che ha trovato un'intesa tecnica con i due direttori, deve trovare con me e con Gubitosa un intendimento economico, ma penso che su questo non ci sono problemi, lo dico scherzando, Novellino ha tanti di quei soldi, ha guadagnato la sua carriera, che non è che gli fanno in pressione 40-50 mila euro in più o in meno, insomma quindi non sarà questo l'oggetto sicuramente della nostra discussione, sarà più che altro il progetto, lui vuole da me una garanzia, ed io lo risponderò a te a tono, perché ho già la risposta pronta, quindi spero che non la senta questa intervista, perché mi chiederà che cosa vogliamo fare, qual è il progetto di questa società, e così via c'è, allora io risponderò in modo molto semplice, devi avere qualche cosa di soldi? Sei preoccupato per chi deve avere dei soldi? Risposta no, e allora stai tranquillo, se dobbiamo fare un campionato di buon livello, lo faremo, aggiungo, i 32 punti presi con questa squadra, con queste limitazioni, giocatori fuori ruolo intendo, non parlo di qualità dei giocatori, diversi giocatori fuori ruolo, con 32 punti fatti il giorno di ritorno, senza aver fatto lui la preparazione, mi fa sperare che con una squadra migliore di questa, noi possiamo attingere sicuramente risultati ed obiettivi più importanti. Ecco, Presidente, alla luce di tutte queste dichiarazioni, e soprattutto anche della presenza di ulteriori cordate, di imprenditori interessati all'Avellino, possiamo dire, soprattutto in base alle sue dichiarazioni, dopo 8 anni, si chiude il ciclo Taccone? Ma potrebbe anche non chiudersi il ciclo Taccone, perché Taccone non è che va via, cioè se Taccone vendesse il suo 80%, andrebbe via, dico se si è chiuso, ma se io resto dentro di questa cordata, avrò sicuramente una voce in capitolo, farò sicuramente il Presidente della squadra, sicuramente, è il minimo che chiederò, insomma, chiunque viene, venisse anche Agnelli, dico una sciocchezza, è chiaro che il Presidente della squadra lo faccio io, su questo non ci sono dubbi, poi ci sarà un amministratore unico, che viene scelto per fare questa cosa, poi ci saranno altri ruoli nell'ambito della società, questo chiederò sicuro, più che i soldi, chiederò questo titolo, che secondo me lo sono conquistate, mi compete di diritto. Grazie a tutti. Grazie per la visione!